La stagione musicale del Teatro Verdi si chiude il 27 maggio con un grande concerto cameristico. Grande concerto non tanto per l'organico, perché è un concerto pianistico, anzi per due pianoforti, ma grande concerto perché certamente le interpreti sono oggi tra le più acclamate al mondo. Stiamo parlando del duo pianistico formato dalle sorelle Katia e Marielle Labeck, duo italo-francese sulla scena ormai da più di 30 anni, forse 40, perché hanno cominciato giovanissime a suonare insieme. Giovanissime hanno collaborato con Luciano Berio e giovanissime hanno intrapreso da subito una carriera internazionale nelle capitali della musica in Europa e nel mondo. E non smettono questa intensità di vita musicale, perché pensate che arriveranno a Pordenone dopo i concerti fatti a Varsavia, a Parigi, a Madrid, per proseguire poi negli Stati Uniti il tour in Giappone e così via. Non certo le uniche artiste internazionali e di grande pregio all'interno del cartellone musica del Teatro Verdi, un cartellone che ha avuto un successo di pubblico non indifferente, mi piace sottolineare questo, in controtendenza con un aumento, seppur piccolo, di pubblico sia tra gli abbonati sia al botteghino. L'occasione per celebrare anche la fabbrica di pianoforti fazzioli, perché le due musiciste si esibiranno in un repertorio per duo pianistico a quattro mani e a due pianoforti sugli strumenti che vengono costruiti a Sacile e che raccolgono consensi da ormai molti anni in tutto il mondo. Sono una nostra gloria locale ed è una collaborazione importante questa del teatro con l'eccellenza manifatturiera. Il programma è un programma molto interessante. La fa da Leone il Novecento francese con Debussy e Ravel, che si tratta del repertorio preferito dalle due musiciste. Poi un'incursione nell'Ottocento romantico con Schumann e un omaggio al Novecento europeo con Lutoslavski. Abbiamo detto musiciste internazionali, grandi virtuose sicuramente, con una cura per la spettacolarità dell'esecuzione che ne fanno una caratteristica tutta loro, musiciste dalla curiosità intellettuale non indifferente, perché molto impegnate nella ricerca e nella collaborazione con compositori del nostro tempo per prime esecuzioni assolute, quindi strumento in mano ai migliori compositori, cosa non usuale, perché molto spesso l'interprete preferisce dedicarsi al repertorio tradizionale. E contemporaneamente musiciste curiose, perché si imbarcano in operazioni molto strane, possono allo stesso tempo dedicarsi ad un progetto dedicato alla musica barocca con gli strumenti originali, oppure dedicarsi a una inedita trascrizione del bolero di Ravel con i percussionisti baschi, impegnati in operazione quindi che vanno dal jazz al crossover alla world music. Artiste moderne anche perché molto attenti alla loro immagine. Il primo servizio fotografico l'hanno fatto a New York, niente meno che con Richard Avedon, comprendendo quanto oggi sia importante curare anche il proprio aspetto, la comunicazione, non per vendere prodotto effimero, ma per vendere, tra virgolette, prodotto di altissima classe e di altissima fattura, come è appunto il loro prodotto musicale. Quindi grande attenzione alla comunicazione, diciamo al marketing, al sito web, alla fotografia, alla cura dei materiali discografici e però musica straordinaria. Un piacere da ascoltare e da vedere.